Benvenuti a tutti al quattrocentesimo episodio di Un Lariatto al Giorno. In realtà ci stiamo lavorando da due o tre anni a questa cosa di Un Lariatto al Giorno, non sono tutti episodi consecutivi, però ne abbiamo fatti quattrocento. Dopo questo ci prenderemo una piccola pausa per poi portare avanti il nostro lavoro con gli ultimi cento che abbiamo trovato, quindi arriveremo a quota cinquecento Un Lariatto al Giorno, in modo tale da poter dare un numero molto elevato di storie che abbiamo raccontato all'interno del nostro percorso, che ovviamente ci hanno condotto fino a qui. Per ora quindi, godetevi questo ultimo piccolo Lariatto e poi ci risentiremo tra un po' di tempo. Non ne passerà molto, non vi preoccupate, però un pochino di tempo ci sarà. Oggi vi parliamo di una rissa tra fratelli. Per questo nuovo appuntamento, come sempre ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify da lunedì al venerdì, Un Lariatto al Giorno, 3-5 minuti, vi parliamo quest'oggi del rapporto strano tra Kawada e Misawa. I due ovviamente sono due delle colonne dei Four Pillars della All Japan Pro Wrestling e ovviamente hanno avuto tantissima storia insieme. Vi abbiamo parlato di come si conoscessero fin dalle scuole, insomma, di tante cose che interlacciavano i loro rapporti in tantissime condizioni diverse. Una delle tante volte in cui hanno litigato, vabbè, è capitata in un bar ed è capitato pure un infortunio all'interno della questione, della rissa. Pensate, si sono messi a litigare e nonostante fossero presenti a Kiratau e Kenta Kobashi, due inizialmente hanno provato a dividere Misawa e Kawada, poi alla fine hanno desistito e hanno detto, vabbè, fate un po' quello che volete. I due si sono pestati tantissimo, tanto che Misawa ha pur avuto un infortunio all'occhio. Baba, venuto a conoscenza della questione, non prende provvedimenti e dice, vabbè, ma mi sembra ovvio, questa è una lite tra fratelli, dovuta un pochino all'invidia che Kawada prova per Misawa, che comunque è considerato il numero uno qua dentro. Quindi niente di che, non succederà nulla. Anzi, facciamo così, diciamo che l'infortunio all'occhio per Misawa è capitato durante un match, così nessuno saprà niente. Anni dopo ovviamente salta fuori la verità grazie a un'intervista di Genichiro Tenryu che va a raccontare un pochino questo misfatto e a svelare un dietro le quinte abbastanza interessante e intrigante di questa risa tra effettivamente fratelli come erano Kawada e Misawa. Grazie di cuore per aver seguito, dopo una piccola pausa torneremo con altri 100 lariatti, non mancate, perché sarà veramente bello e interessante potervi riportare e raccontarvi ancora tante belle storie di Pur Reso. Grazie di cuore per averci seguito, io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, noi ci risentiamo, alla prossima!